HULICAN ZOMBIE APOCALYPSE Ciao ragazze, ciao a tutti, ciao a tutti Scusate di chiudere la porta perché sennò sento troppo amore Allora, pulizia del viso non tanto Però una bella chiacchierata insieme lo voglio fare con voi Sì, stavolta sarò andata tutta dall'estitista A fare tutto ciò che devo fare Il viso, certa, totale, insomma Certa, caotale, ascelle, tutto Vabbè, a voi non ve lo può fregare da meno Però, niente Mi devo lavare il viso perché sono completamente accaldata Quindi, leviamoci le occhie, non so molto dove cacchio metterli Ma vabbè Qua mi devo fare con lavar le mani perché stavo spettando l'acqua Allora, mi lavo anche il viso, già qui ci sono Con questo detergente qui Della acqua alle rose E poi ovviamente vado di maschera a viso C'è che ne ho bisogno Che è la mia, che è la mia, che è la mia Io non so quanto vuoi fare la schiacciata, vabbè. Ho i miei occhi, poi c'è rosso. Ok, basta, se non sveglio troppo acqua, intanto qua apro perché mi sento un po' troppo, come si dice, non c'è troppo pubblica, perché altrimenti sono mai chiuse. Ecco qua, ve lo vado il viso, ve lo vado. Ok, ora mi ci trucco, anche se non faccio il trucco, però lo faccio. Io ho fatto, mi prendo, mi prelevo. Non so neanche io dove cacchio mettervi, però vabbè. Mi metterò qui, ad ogni modo. Ok, sperando che registra qualcosa, aspettate. Si sta registrando. Perfetto, allora. Non è tutto come burro, sto mettendo questo. La brossana, si vedrà qualcosa, si. La brossana. Allora. Il secolo. Allora. correttore e niente mi sa che faccio il letto perché ne aveva bisogno una piccola spolverata al letto nel senso non la calore testata del letto ma una piccola rifatta al letto un attimo solo vedete come mi ha letto è tutto sfatto ha risolto una persona piccola come dire si va bene ha capito una piccola sistematina al letto perché è inguardabile spiegato secondo non 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 Grazie a tutti. Allora, rieccoci, sono qua, ragazzi miei, ragazzi miei, e sto cercando di fare questo videovlog per voi, anzi, più che altro faccio anche per me, per andare un po' con voi, comunque, faccio un altro punto con i colori cilontri quello che fa, però vabbè, e niente, no, non voglio truccarmi ragazzi, non c'ho l'apparente di truccarmi perché va veramente, ma veramente troppo caldo, uff, mia, che caldo mi fa, e quindi per forza di cose che se mi trucco col 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 a tutto, riferisco più, come dire, far respirare la mia pelle, spero che secondo, guardo se la faccia parte, si ce l'ho trovate, mi sembra che l'avevo tolta dalla borsa, eccoci qua, la agito come sempre, e adesso me lo metto un po', giù, mi ha agito un po' le mani, così, svolto le mani, in modo che vaporeggia un po' l'acqua, senza far di male, ovviamente, ah, che bello, finalmente, allora, non so cosa che ho qua, tutta, tutta l'acqua, cosa che ho qua, boh, non lo so, non ho idea di cosa sia, fa malissimo, sperando di non aver spruzzato, sopra il telefonino, perché non ci tengo, perché spruzzare sopra il telefonino, e niente, vabbè, a parte il cane che abbaia, non ci posso fare niente, però, sto sudando, freddo ragazzi, non potete capire il caldo che ho, ho troppo caldo, ma vabbè, dettagli, ah, che se mi chiedete, se ho lavato i pennelli, ancora no, io dovevo lavare i pennelli, ma, ne ho sporcato degli altri, quindi, non vale, non ci vacciono mai, mi aiuto, il gioco non vale la candela, quindi, l'ho, ne ho presi altri, e l'ho sporcato, quindi, vabbè, niente, apriveli là, però, i pennelli, tranquilli, cosa che ho qua, niente, sono sporcata di quest'acqua, però, a posto, ok, e niente, intanto posto la mia bella gossettino, so per farci vedere quanta emozione, che sarebbe, ops, aiuto, questa qua, vedete quanto è bella questa, e stra bella, molto bella, vedete, molto cariccia, cariccia, non sto per parlare, se si tratta a fondo, non ci posso fare niente, ma, ahimè, ne si è nata, fa un chiasso, assumito, aspetta, no, ok, no, non si è, come dire, non si è, spento il telefono, per fortuna, ho la batteria scarica, come il solito, ma come vedete lo stesso, già, mi devo avvicinare, però se no, non mi vedete, allora, mi metto un altro po' di questo, pure un cacao qui, questo, questo qua, si vedrà qualcosa, si spero di si, e, me ne metto un bel po', noi, per esempio, ci salutiamo, perché, se non è diventato troppo lungo il video, non me lo guardate, ci vediamo in questo video, e, cosa dirvi, niente, che casino che stanno facendo, no, ragazza, non posso dire questo, e niente, mettete un bel like di supporto, a pezzi si è parlato, ben poco, però, vabbè, niente, ho fatto il letto, o cosa, cosa devo dire altro, niente, oggi sono uscita poco, e niente, anzi, per niente, sono uscita oggi, non so perché, ma sono uscita veramente, ben poco, pazienza, a dopo, dai, a un altro video, se riesco, se posso, mi devo, se no, resto così, o faccio, anche maschera, ciao, like, commento, iscriviti, e attivate la campanella, ciao,